salmo 90 versetto 12 insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio c'è un detto nel mondo che sentiamo spesso che dice che i conti non tornano a volte è successo anche a noi quando facciamo due entrate familiari o una revisione di qualcosa possiamo renderci conto che c'è qualcosa che non funziona e così potrebbe essere se ci fermiamo quest'oggi alla presenza di dio a esaminare come stiamo usando i nostri giorni che dio ci ha donato su questa terra possiamo vedere che a volte i conti non tornano che abbiamo veramente buttato via questi giorni e noi li abbiamo usati con cuore saggio e con sapienza c'era un cantico che si cantava nelle comunità evangeliche che diceva signore sono tante quelle ore che ho perduto e sono poche quelle che ho speso con Gesù facciamo una revisione della nostra vita spirituale vedendo come abbiamo usato i nostri giorni fino a questo momento e vediamo chiediamo che il signore ci dia un cuore saggio ci insegna a usare il tempo che lui ci dà a disposizione recuperandolo predicando la parola in tempo e fuori tempo avendo come obiettivo la crescita della nostra anima di fronte alla sua presenza avendo come obiettivo il desiderio di parlare di lui ad altre persone mentre lo glorifichiamo e cresciamo signore dacci un cuore saggio affinché i conti tornino alla tua presenza perché il nostro tempo è speso ai tuoi piedi il signore ci benedica grazie a tutti